L'arte di guarire, guarire con l'arte è l'iniziativa che trasformerà il cortile dell'ospedale degli incurabili nel cuore antico di Napoli in un luogo dove la sanità svelerà gli innumerevoli legami con l'arte in ogni sua forma. Partita oltre un anno fa, grazie all'impegno di 80 volontari riuniti nell'associazione Il Faro di Ippocrate, l'iniziativa ha preso forma concreta con il taglio del nastro del Museo delle Arti Sanitarie e della storia della chirurgia, creato da Gennaro Rispoli, chirurgo e storico della medicina, oltre che collezionista di libri e strumenti medici di ogni epoca e luogo del mondo. Nel museo trovano spazio centinaia di volumi, bisturi e forbici del Settecento, una sedia operatoria dell'Ottocento, uno dei primi biberoni in vetro, il busto bronzio del medico e scienziato Domenico Cirillo. All'inaugurazione ha partecipato anche Maurizio Scoppa, commissario ASL Napoli 1 Centro. Anche in questa riscoperta del nostro patrimonio storico della medicina napoletana, che è stata nei secoli un primato nel sud Italia, forse anche per certi versi in Italia ed in Europa, è giusto che questo patrimonio sia fatto conoscere, sia rivalorizzato e non sia una parte secondaria dell'attività dell'azienda che ha il dovere di mantenere questi beni, di conservarli e di farli conoscere. Il complesso architettonico che sorge intorno al cortile degli incurabili è rinato grazie agli interventi di sinergia fra istituzioni. Da un lato la regione con l'assessorato all'urbanistica che ha inserito l'intero cortile su cui affaccia la famosa farmacia settecentesca nel grande progetto centro storico di Napoli Patrimonio Unesco, dall'altro l'ASL Napoli 1 Centro, che ha sposato l'idea di curare un polo museale utilizzando il grande patrimonio artistico dell'azienda sanitaria. Come ho sempre sostenuto, la medicina napoletana ancora oggi ha le sue eccellenze, i suoi primati e sono le strutture e l'organizzazione che deve essere all'altezza dei medici di Napoli. L'obiettivo è anche quello di creare uno speciale luogo della memoria e della conoscenza e una volta portati a termine gli interventi strutturali, la neonata piazzetta a cuore agli incurabili ospiterà numerose manifestazioni in linea anche con grandi eventi in programma a Napoli come l'America Scappa Bagnoli nel 2012 e il Forum Universale delle Culture che si svolgerà nel 2013.